Così lei è Ruby, è un demone, Sam. Il suo nome è Lilith e non gli sei molto simpatico. Quanto tempo ti hanno dato? Un anno. Tu sapevi del patto di Dean, che è Lilith ad avere il suo contratto? Sì. Ti restano ancora due mesi. Non finirai all'inferno. Non è Ruby, è Lilith! Dov'è Ruby? L'ho spedito a molto, molto lontano. Attaccalo, bello. Questo non mi aiuta! Non mi aiut! No! Ahhhhhhhhhh! Grazie per la visione!